premi premiatevi con tuborg e sarete premiati i climbers di tutta italia conoscono questa zona vicino a torbole che viene detta spiaggia delle lucertole dalle acque del lago di garda si alzano pareti che gli arrampicatori delle ultime generazioni hanno reso famose grazie ai nomi dedicati alle vie di salita la signora degli appigli non seguitemi mi sono perso tom e jerry sono solo alcuni esempi che nascondono però difficoltà severissime vediamo in azione heinz mariacher che gli amici di jonathan conoscono bene insieme a luisa jovane sua abituale compagna di arrampicata domenica prossima heinz sarà impegnato sulla torre del violet in una via in arrampicata libera che oltre a celebrare l'anniversario della prima salita compiuta da winkler cento anni fa vuole dimostrare che anche nel cuore delle dolomiti c'è spazio per il free climbing in queste immagini in azione anche altri due climbers trentini roberto bassi e rolando larker che spesso arrampicano insieme a mariacher un lontano windsurf che corre veloce sulle acque del garda ci fa capire che il nostro itinerario in trentino sta finendo lasciandoci il ricordo di queste splendide zone e della perfetta ospitalità ricevuta a a Grazie a tutti.